Noi oggi siamo qui a difendere il Service Desk. Sciopero di due ore per i lavoratori di autostrade di Firenze. Dalle 10 alle 12 stamattina i dipendenti della sede fiorentina hanno incrociato le braccia e organizzato un presidio nel piazzale davanti alla chiesa di San Giovanni Battista a Firenze Nord. Un'iniziativa promossa da Filt CGL, Filt Cisle, Will Trasporti e SLA preoccupati in particolare dalla disdetta degli accordi riguardanti il repardo Service Desk. Un servizio digitale centrale nel funzionamento di autostrade. I sindacati denunciano un clima di totale mancanza di dialogo con l'azienda e temono esternalizzazioni e ridimensionamenti. La società ci ha convocati più volte per parlare della ristrutturazione di questo servizio però l'impressione è che si vogliano solo fare dei tagli sul numero dei turnisti perché si tratta ovviamente di un servizio H24 che vuole essere ridotto drasticamente però non c'è un chiaro progetto da parte dell'azienda. Noi più volte abbiamo cercato di approfondire cosa per esempio andrebbero a fare i lavoratori che escono dal turno però le risposte sono sempre state piuttosto nebulose e non è così chiaro il progetto finale. Quindi per noi è importante continuare a dare un servizio di qualità per tutti gli utenti e quindi non si può accettare che vengano solamente tagliate le teste, tolte di mezzo dal turno che insomma è necessario che venga continuato a essere svolto correttamente. Che cosa chiedete all'azienda? Allora innanzitutto di spiegare cos'è che vorrebbe esternalizzare, di dare anche una chiara definizione di quello che è il progetto finale e evitare che ci siano sempre risposte nebulose. Ora abbiamo letto anche ieri sul giornale alcune dichiarazioni di autostrade altrettanto nebulose perché si parla di nuovi standard ma non è così chiaro cosa poi si va a fare e con noi c'è stata diciamo la stessa vaghezza e la poca chiarezza.